Mare pulito, balneabile nell'intero tratto della costa francavillese, una bella notizia sindaco. Sì, qua siamo quasi a confine nello stabilimento dell'amico Pier Giorgio, l'Albatros, devo dire che è un piacere vedere questo mare pulito, chiaro, che non ha problemi, speriamo di continuare su questa strada e quindi venite a fare assolutamente giornate di sole e dei buoni bagni a Francavilla al mare. Una bella notizia che però fa il paio con quello che è accaduto qualche settimana fa, quando Francavilla non si è vista confermare la bandiera blu, lei sindaco ci è rimasto male? Ci è rimasto molto male perché per l'ennesimo anno non abbiamo avuto la bandiera blu, ora stiamo aspettando le motivazioni, quest'anno ci avevamo creduto fortemente perché ritenevamo di avere tutti i requisiti per avere la bandiera blu, ma questo ci sprona ancora di più a proseguire nella strada che abbiamo intrapreso. Io sono convinto che il prossimo anno avremo questo giusto riconoscimento. Finalmente è partita la stagione estiva, la stagione balneare, grazie anche alle prime belle giornate di sole state programmando degli eventi per quest'estate e poi ci sono novità anche per quanto riguarda la mobilità sostenibile a Francavilla. Sì, quest'anno abbiamo fatto veramente tanto per la mobilità sostenibile, dai monopattini elettrici ai figo, alle biciclette elettriche, stiamo pensando anche di rinforzare la nostra rete di piste ciclabili e per quanto riguarda la stagione è chiaro, non si faranno i concerti, vivremo una stagione diversa ma comunque piena di eventi. Faremo in modo di rendere Francavilla appetibile come in ogni estate e quindi aspettiamo numerosissimi turisti.